Musica Sergio Pisano del gruppo dei soci, grande amico e grande atleta, sui grandi mezzi, ricordiamo l'amico Antonio Daniello, grande preparatore di bici, insieme al nostro staff siamo con questo un po' male perchè sto facendo palestra, quindi sto facendo un po' di non riesco ad andare tanto bene, ho le gambe pesanti però, questo è un periodo di riposo e poi la Cipollini è un amice decorante ciclista negli anni 90 ma è un piccolo, si si bene capitino stiamo facendo male c'è mancato poco eh ho visto quella gretina girata senza i periodi della strada siamo mobilissimi a fare attenzione siamo invisibili buongiorno buongiorno ciao grazie Giuseppe siamo grandi ciao ciao Alberto un apprezzamento alla nostra atleta di socio mamma mia Im è forte 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 qui sulla tua testa ci ha staccato sulla palla sulla cave è andato in progressione molto forte qui dalla rotonda di brava e la bisogna vedere ci vuole un po' ci vuole ci vuole non parliamone qui dalla rotonda di Maradona ehi cacciatusso il nostro amico cacciatusso aveva promesso di mettermi dietro e ce l'ha fatta ecco diciamo così brava comunque brava Im ma vabbè brava anche tu ha fatto da gregario Giuseppe cacciapù e De Carlo eh penso lo conoscerò barbara streisand barbara streisand